Buongiorno a tutti e bentrovati. Sono Graziana Rubino e sono una docente specializzata per le attività di sostegno didattico ed è proprio di queste attività che vorrei parlarvi. Il nostro polo liceale attualmente accoglie più di 40 ragazzi con bisogni educativi speciali, ragazzi che sono supportati quotidianamente dai loro docenti specializzati e dai docenti curriculari, che li accolgono dal primo giorno e li accompagnano per tutto il corso del quinquennio. La nostra scuola può essere considerata come una grande comunità educativa, un ambiente sereno e rassicurante dove l'obiettivo principale è la cura di questi ragazzi, cura che viene affrontata tanto dai docenti quanto dal personale, dai collaboratori e giornalmente lavoriamo insieme proprio per favorirne l'inclusione e garantirne il loro benessere. La maggior parte degli alunni che frequentano il polo liceale esegue una programmazione paritaria, tuttavia lì dove questa non è la scelta più idonea per l'alunno, viene predisposta una programmazione differenziata. Questa viene stilata all'interno del piano educativo individualizzato, predisposto secondo un approccio sinergico tra scuola, famiglia e figure sociosanitarie di riferimento. I nostri alunni svolgono la maggior parte delle loro attività in aula con il resto della classe, tuttavia per garantire anche un momento di insegnamento individualizzato sono presenti nel nostro istituto due grandi aule, una nell'area scientifica e l'altra nell'area umanistica. All'interno di quest'aule i nostri ragazzi possono dedicarsi sia a dei momenti di studio individualizzato e quindi consolidare delle conoscenze o recuperarne alcune, oppure dedicarsi ad attività e laboratori. È proprio di questo che vorrei parlarvi, perché ci teniamo particolarmente a questi laboratori perché hanno tutti insiti un'intenzionalità educativa. I nostri laboratori sono molteplici e sono stati portati avanti nel corso degli anni, tra questi possiamo citare ad esempio il laboratorio di giardinaggio che ha permesso ai ragazzi di prendersi cura e di sperimentare quindi loro stessi come artefici della cura di qualcosa nei confronti delle piante e degli alberi di una parte del nostro istituto. Hanno imparato anche a lavorare insieme e soprattutto hanno acquisito una maggiore consapevolezza del rispetto dell'importanza dell'ambiente. A questo laboratorio se ne uniscono altri, quali ad esempio il laboratorio informatico e il laboratorio scientifico. Il laboratorio informatico mira proprio a consolidare quelle che sono le conoscenze di base, ma altresì a permettere ai ragazzi di acquisire nuove forme di comunicazione più immediate, flessibili, che possono anche avere delle ripercussioni sull'apprendimento. Il laboratorio scientifico invece permette proprio di manipolare il sapere e quindi di trasformare quel sapere teorico in esperienze pratiche e quindi apprendere maggiormente attraverso dei piccoli esperimenti. Sono presenti anche dei laboratori più creativi, manipolativi, il laboratorio culinario, il laboratorio di riciclo dei materiali. Questi mirano invece a promuovere quelle che sono le autonomie personali dei nostri ragazzi e quindi quelle spendibili nella vita di tutti i giorni, quale può essere ad esempio saper utilizzare con sicurezza gli strumenti che si trovano in cucina. Ampio spazio ed importanza è data anche allo sport, difatti grazie al supporto dei docenti di scienze motorie che dedicano alcune ore delle loro settimane ai nostri ragazzi, riusciamo a fare delle attività per potenziare il benessere psicofisico. Ed è proprio queste attività che hanno permesso ai nostri ragazzi di partecipare ai giochi sportivi studenteschi, che si sono rilevati un importante momento non soltanto dal punto di vista sportivo, ma soprattutto dal punto di vista umano. Questo perché i ragazzi hanno imparato a sperimentarsi in un ambiente diverso dal quello a cui sono abituati, hanno acquisito l'importanza e il valore delle regole sportive, ma soprattutto hanno vissuto dei momenti di socializzazione e di interazione con i pari. Tante delle attività che vengono svolte nel polo sono anche in partenariato con alcune associazioni. Vogliamo ricordare ad esempio l'associazione ACLI o l'associazione Centro Arcobaleno, che permette di portare avanti un laboratorio tratale, grazie al quale i nostri ragazzi riescono ad esprimere meglio i sentimenti e le emozioni che vivono. A questo però vorrei sottolineare che l'attenzione nei confronti dei nostri ragazzi non è un'attenzione soltanto al loro piano di studi e quindi al presente, ma abbiamo lo sguardo aperto nel confronto del futuro e quindi al loro progetto di vita, futuro che in alcuni casi può anche essere un futuro lavorativo. Ed è per questo che anche per loro sono predisposti i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, la vecchia alternanza scuola-lavoro. Naturalmente anche questi sono ritagliati sulle loro reali necessità e potenzialità. Sono previste uscite didattiche e sono previsti quindi dei momenti di socializzazione anche fuori dal contesto scolastico. Mi preme sottolineare che tutte le attività previste per i nostri ragazzi hanno degli obiettivi fondamentali. Individuare le potenzialità insite in ciascuno, perché ciascuno di noi ha delle potenzialità, bisogna soltanto scoprirle. Valorizzare le differenze, che deve diventare un punto di forza la differenza e non un punto di debolezza. E soprattutto sostenere i sogni e le ambizioni di ciascuno. Prima di salutarvi vorrei ricordarvi che tutto il gruppo per l'inclusione è a disposizione delle famiglie per incontrarle durante le giornate degli open day o attraverso un appuntamento personalizzato che si può prendere attraverso il sito del polo liceale.